È molto importante dare un messaggio chiaro dopo ben tre mesi di guerra e conflitto in Ucraina e cioè che quando si parla di pace, di risoluzione del conflitto, è importante avere appunto chiaro qual è l'obiettivo. Per noi l'obiettivo chiaramente è quello di dare uno stop all'immedia di armi, un sia gestato di fuoco, un sia negoziati, sia un trattato di pace. E solo questo è possibile se di fatto si ferma questa guerra, quindi ovviamente anche l'invio di armi quanto bombe e missili. La guerra non si ferma con l'invio di armi, la guerra si fa fermare appunto mettendo a un tavolo le due parti e avviando un serio e vero negoziato, ecco per il quale ci siamo impegnati in questa risoluzione.